Coach Bruno Napolitano, commentiamo questa sconfitta qui a palmi del volley Soverato 3-0 contro il Trentino al termine possiamo dire di una settimana molto tribolata e inutile negarlo perché non deve essere un alibi ma è la realtà dei fatti alla fine arriva una sconfitta, primi 2-7 equilibrati, nel terzo poi Soverato è crollato probabilmente anche dal punto di vista nervoso è un'analisi molto molto complessa da fare, non è così semplice, l'analisi di questa partita qui è veramente molto molto difficile mi devo necessariamente limitare a fare un'analisi di campo perché altrimenti rischierei di andare fuori pista e questo non voglio farlo, parto dal concetto che secondo me Trento è più forte di noi per cui al di là della settimana che abbiamo vissuto l'onestà intellettuale mi porta a dire che molto probabilmente la partita avremmo dovuta comunque sudarcela come di fatto è stato stasera poi è chiaro che la settimana non ci ha aiutato Trento è una squadra che oggettivamente è un po' più attrezzata di noi, c'è un po' il rammarico per il primo set perché nonostante il livello di errore è molto alto da parte nostra abbiamo avuto la palla del 24 pari e queste sono quelle partite che un set soprattutto quello con cui inizi la partita può fare la differenza abbiamo giocato molto bene secondo me il primo e secondo set se non fosse stato altro che sono stati condizionati dal livello di errore molto alto e questo è un gran peccato perché poi tu giochi, giochi, giochi però poi l'errore vanifica tutto il terzo set sinceramente abbiamo avuto un calo che secondo me è stato evidente essere un calo di tipo nervoso abbiamo un po' rigurgitato tutto quello che insomma ci è passato in questa settimana davanti ecco questa è un po' l'analisi ovviamente senza nulla togliere la mia domanda era riferita alla prestazione del Soverato nulla togliere alla vittoria di Trento che è meritata, che conferma la sua forza se sta vittoria consecutiva non si trova al secondo posto per caso il Soverato probabilmente ha un po' di rammarico per i primi due set perché nel terzo ovviamente partendo sotto subito 7 a 0 si è complicato tutto al cospetto di una squadra che invece ha murato tantissimo, ha giocato bene in tutti i fondamentali voglio dire, Trento è una squadra attrezzata per il campionato che sta facendo di vertice, è stata superiore a noi in tutti i fondamentali noi continuiamo a soffrire di percentuali d'attacco molto basse se questo vogliamo diciamo in qualche modo usare come analisi l'analisi è che le percentuali nostre d'attacco sono molto basse e a questo livello ovviamente fai veramente tanta tanta fatica con quelle percentuali d'attacco io ho sempre detto, questa è la nostra, è una squadra io sono, voglio dire, la sconfitta di stasera come la sconfitta di Terino non cambia di una virgola l'opinione che io ho di questa squadra è una squadra futuribile, è una squadra che è stata costruita per non quel campionato che ha fatto ma per qualcosa che oggettivamente nessuno, insomma, non ci accreditavano per il campionato che abbiamo fatto può continuare ancora a crescere però devo aggiungere una squadra che fino adesso ha basato le sue prestazioni su degli equilibri molto sottili proprio perché non avendo delle giocatrici di riferimento, vista anche la giovanità doveva per forza basarsi sul sistema ovviamente adesso un po' lo stiamo pagando perché mentalmente non riusciamo più a, in questo momento, a ripetere quel livello di attenzione ma è fisiologico, è normale non è certo per me motivo di critica nei confronti delle giocatrici, assolutamente Coach Nicola Negro, tre punti importantissimi per il Delta Informatica Trentino qui a Palmi contro il Valle Soverato un'ottima prestazione, 3-0 rafforzata la seconda posizione probabilmente un passo decisivo in questa pool promozione Questa è una vittoria molto importante per noi, pesante contro una squadra che finora ha espresso un bel gioco, una bella pallavolo ed era uno scontro diretto quindi valgono doppio questi punti sicuramente abbiamo fatto più fatica del solito con il nostro attacco questo perché Soverato è andato in campo molto aggressiva con il servizio e anche Muro difesa ha lavorato molto bene in difesa contro noi oggi e abbiamo fatto più fatica del solito però la mia squadra Muro ha espresso qualcosa di incredibile 20 muri in tre set, sono un dato strepitoso e non posso che fare i complimenti ancora una volta alle mie ragazze per questa ennesima prestazione Due set, i primi due equilibrati anche se si aveva sempre la sensazione che Trento potesse avere il bandolo della matassa come si suol dire dalla sua nel terzo set invece siete partiti subito 7 a 0 praticamente avete chiuso la contesa una squadra che si è dimostrata continua nel corso della partita sia per i tanti muri messi a terra ma anche per la qualità di gioco espresso Sì, questa è la nostra sesta vittoria di fila le vittorie non vengono a caso le vittorie vengono perché c'è un gruppo una squadra che sta lavorando forte in palestra e riesce poi la domenica ad estrimersi in questo modo se continuiamo con questo livello possiamo essere fastidiose per chiunque A questo punto mal che vada se si continua così si potrà chiudere la pool promozione al secondo posto per Trento e quindi accedere direttamente alle semifinali questo Trentino si sta dimostrando di avere tutte le carte regola per recitare un ruolo di protagonista anche nell'eventuale post season Ma in realtà ci mancano ancora un po' di punti per essere sicuri almeno del terzo o del secondo posto e saltare i quarti di finale Torino e Marignano hanno un calendario sulla carta un po' più agevole di noi quindi dobbiamo difendere fortemente questo secondo posto se vogliamo avere il turno di riposo e pensare direttamente alle semifinali Ancora la strada del...